gentili telespettatori buona giornata all'ira di giorgia meloni la premier la cena con biden io in pizzeria ci sono andata dopo 12 ore di lavoro e in consiglio cero quindi la premier e le polemiche sui giorni all'onu perché la notizia erano che non ha partecipato la meloni al consiglio di sicurezza delle nazioni unite non si è presentata al ricevimento di biden e si è andata a mangiare una pizza con la figlia e con il suo staff dicendo vabbè con biden l'ho già visto un sacco di volte che non c'era bisogno di andare a trovarlo un'altra volta e così la premier dice ma io non potevo far saltare sette incontri bilaterali utili per andare al ricevimento la missione a maracana di giorgia meloni è finita con una cena organizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nella celebre nel celebre diciamo ristorante italiano premier con figlia è tornata a roma all'alba di ieri soddisfatta c'è soddisfatta per aver portato all'assemblea generale delle nazioni unite il tema del sostegno all'africa e della lotta ai trafficanti di essere umani qualche politico proprio settimana scorsa diceva che in politica le chiacchiere stanno a zero quello che conta sono i risultati quindi diciamo che il popolo italiano aspetta i risultati sulla immigrazione clandestina la meloni ha fatto di tutto è andata alle nazioni unite andate in europa è andata in tunisia in libia in turchia ha parlato con tutti però adesso c'è bisogno di vedere i risultati non fra 30 anni o fra 50 anni col piano mattei se i risultati non si cominciano a vedere oggi e invece di cominciare a diminuire gli arrivi c'è un boom addirittura i servizi segreti parlano di due milioni e mezzo pronti a partire allora bisogna cambiare strategia ecco ma la meloni è soddisfatta di aver portato il tema dei clandestini alle nazioni unite e dei trafficanti quanto raccontano i collaboratori la meloni non accetta di essere descritta come un capo del governo che diserta la cena con il presidente degli stati uniti per andare in pizzeria dice una falsità gli orari lo dimostrano e la infastidisce la mala fede di chi mette a confronto la sua agenda privata con quella istituzionale tanto per attaccarla la cena in pizzeria che ha acceso la polemica doveva restare riservata finché un giornalista americano l'ha rivelata sui social matteo renzi ha accusato meloni di aver perso la faccia anche per la scelta di non partecipare al party della casa bianca con joe biden per per renzi la leader della destra voleva rinviare la pizza con la figlia perché doveva perché se vuoi fare un piano mattei serio parli con tutti e al ricevimento del presidente degli stati uniti ci vai attacchi che la leader respinge con forza dice sono stanca di chi si permette giudizi senza le necessarie verifiche non mi si può dire che non lavoro abbastanza la cena degli americani era alle 19 di new york e io in pizzeria ci sono andata alle 21 dopo 12 ore di lavoro a palazzo di vetro dopo aver saltato il pranzo per i tanti bilaterali e quando il ricevimento di biden era finito prova a chiudere il caso con una frecciata renzi e a chiunque pensi che lei non abbia sfruttato al meglio il suo debutto all'onu dice la politica estera non si fa coi ricevimenti e con le foto opportuniti e ritengo che un premier in carica abbia il diritto di decidere le sue priorità il fastidio verso chi da sinistra vuole criticare per forza è forte dice la gente normale pensa abbia fatto bene e che polemiche come queste mi aiutano e basta allora io vi posso dire da ex direttore commerciale da ex direttore vendite che la vendita non si fa quando vai dal cliente e ti siedi lì e gli dici beh allora che facciamo me ne compri mille di sti cosi e quello non ti compra niente la vendita o il convincimento in politica su piani mattei o su tante cose la vendita va fatta in un certo modo se tu arrivi dal cliente ti siedi allora me li compri può funzionare ma spesso no se tu invece arrivi senti dai andiamo a prenderci un caffè ti offro un caffè quello fa una pausa viene con te dall'altra parte della strada prende un caffè poi gli chiedi pagli parli come se fosse un qualunque amico allora che fai sto fine settimana sono volevo andare di nuovo sono stato in quella spiaggia e fai e cerchi di avere un legame con il venditore di quell'azienda con il compratore perché tu in quel momento sei il venditore quell'altro il compratore devi cercare di instaurare una sorta di rapporto umano perché solo arrivi allora me li compri o no che devo andare non funziona quindi la vendita è un è un complesso di di situazioni dalla telefonata dal rapporto che diventa simile a quello di un'amicizia al caffè gli racconti le tue cose la battuta la barzelletta lo scherzo poi dopo dopo come è successo tante volte a me perché io affiancavo i venditori io andavo non so giravo l'italia andavo a trovare non so il venditore della calabria e lui mi portava a vedere i suoi clienti migliori dove io come direttore vendite o direttore commerciale facevo magari l'offerta speciale per quell'occasione e allora magari io andavo con il rappresentante andavamo a prenderci il caffè con il compratore dell'azienda poi finito il caffè dicevi beh beh dai ti lascio il catalogo nuovo poi ci vediamo no no aspetta aspetta siediti e lì a quel punto il compratore che ti dice no no perché vai via senti siediti in attimo perché mi dovevo comprarti a me è successo tante volte che i compratori mi comprassero delle cose che non gli servivano quindi una sorta di riconoscenza perché tu li vai a trovare li porti a prenderti il caffè chiacchieri scherzi ridi occupi il tuo tempo poi non c'è neanche bisogno che gli dice allora me li compri no dici guarda ti lascio il catalogo poi se c'è qualcosa mi chiami magari ti faccio però adesso adesso andiamo e spesso il compratore ti dice no 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 aspetta 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 dai sediti un attimo di questo prodotto qui nuovo dai prova a mandarmene 50 e tu hai fatto la vendita in un certo modo per questo che vi dico i ricevimenti servono proprio per questo tipo di tecnica questo tipo di tecnica però lo può la può conoscere solo chi è chi è nel settore chi è stato nel settore delle vendite o chi magari ha studiato come me comunicazione bene grazie a tutti e arrivederci a presto